Musica Salve a tutti ragazzi Tu lo vedi il cameraman C'è la telecamera là guardalo Non lo vedi 15 fps Yeee Quanto cazzo è pesante sta mod Allora eccolo là il cameraman Siamo i koala Eccolo sta qua davanti No infatti Non sentite Alberto perché Alberto L'ho ritrovato Era malato E ancora adesso è malato Riesce a giocare fortunatamente ma c'ha la febbre Il raffreddore mal di cora Mi faccio i cazzi miei Ci sto per la quale su Skype Quindi sentirete un attimo la mia voce raffreddata Passiamo ai fatti Ora vedrete una serie di speed build Così ci costruiamo La stazione Tutto ci costruiamo Tutto quello che possiamo Mancano dieci secondi Bella a tutti ragazzi Spero che comunque possiate Enjoyare I video dei koalas A voi Tutto ci costruiamo 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501